La montagna è autenticità, emozione e soprattutto impegno. Per garantire la bellezza della montagna bisogna apportare progetti di sviluppo, un grande progetto di coordinazione fra gli enti locali e le persone che la abitano e soprattutto strategie di visibilità che sappiano comunicare questa bellezza a tutte le persone. Io abito oltre i mille metri d'altitudine e sperimento giornalmente quelle che sono le difficoltà della montagna. D'estate faccio legna per riscaldarmi, ho l'orto per mantenermi d'inverno e spallo la neve quando non passa lo spazzaneve all'orario giusto. E' per questo che credo che l'impegno, la costanza e la convinzione siano fondamentali per abitare la montagna in maniera concreta, reale e non soltanto idilliaca come un depliant della pubblicità. La montagna è una straordinaria risorsa per l'Italia, le Alpi sono un bacino di risorse inestimabile ma al momento non ne hanno la coscienza. Prendere consapevolezza dell'identità porterà la montagna a raggiungere grandi risultati e speriamo che lo faccia breve.